Cosa ci faccio a fornire un po' poi? E perché? C'è questo petto flù? Eh, tal che c'è un castello a fornire un po' poi lì, e cosa ti do questo po' adesso? Non sa una, di queste domande sono in grado di rispondere. E quindi tu dirai, tal che vi faccio un petto flù? E io ti dico, ma perché no? Tra l'altro è la prima volta nella mia vita che vengo fuori un po' poi. Sì, una risposta, a parte perché no, e anche, mi è sempre incuriosito il nome, e praticamente la via Emilia ufficiale bypassa il paese. E io gli ho detto, ma perché non entrare e vedere com'è fatto? Penso che consista praticamente in questa piazza, con un castello, un torino che forse è una torre cinica, un'osteria che spara di gabue. E quindi, da tutto, ah no, devo dire la verità che è la mia canzone preferita di gabue, ma questa è una nota amare. Ciao, arrivederci al prossimo video, questi preziosi, stragnanti reportaggi. Ciao, ciao. 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 Ciao.